Molto felice e finalmente svuoto, svuotato da tutti questi stress di non riuscire mai a passare questo primo turno. Non ce l'avevano riusciti a Bolzano, non ce l'avevano riusciti a Benevento soprattutto. Sì! Non ce l'avevano riusciti a Benevento e finalmente ci sono riusciti con tanta tanta fatica. Contro il Lussemburgo, infatti guarda, visto che l'ultima azione non c'era un Dean, ho avuto paura, ho avuto. Stavolta è stata una gran difesa, abbiamo obbligato a fare un tiro un po' così e niente, sono felicissimo. Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! E niente, l'abbiamo preso seriamente come potete vedere, siamo poco contenti siamo. È il primo passaggio del turno da capitano, dimmi come ti senti. Mi sento bene, mi sento molto felice finalmente, però non avevo avuto molta fortuna come capitano. Non so neanche cosa dire, sono felicissimo. Sinceramente ero un po' deluso da ieri perché veramente ci meritavamo di passare già il turno di ieri, di giocare questa partita quasi come, sai, un amichevole perché hanno già passati. Invece ci siamo ridotti a giocarcela ancora contro il Lussemburgo e niente, ancora contro il Lussemburgo probabilmente ci porta bene. Abbiamo passato, adesso vedremo cosa ci aspettare in questo playoff. Sappiamo che qualificarci ai mondiali è, non dico impossibile, ma è difficilissimo perché nonostante tu possa passare al primo playoff, il secondo playoff sarà ancora contro una squadra ancora più forte che una squadra bella zonata, ma però ci godiamo il momento. Adesso stacchiamo la spina per questa sera, domani sarà un lungo viaggio, ognuno tornerà a casa sua e poi a marzo mi sembra sarà il primo playoff, vedremo chi dovrà giocare e vedremo come andrà. Per ora stacchiamo la spina e grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito, grazie a tutti quelli che ci sopportano. Un bacio a Martina, a Sofia, a mio padre, a Bulza e Forza Azzurri. E Forza Azzurri.